Ciao a tutti bimbi! Allora, questa sera leggiamo un libro della buonanotte. Il libro della buonanotte. Arriva la sera, è ora di dormire, ma Giannino si vuole ancora divertire. Billo coccodrillo nella giungla addormentato, peccato che il fango sia un poco bagnato. Rino rinoceronte, disteso su di un prato, si dondola felice sotto il cielo infuocato. L'elefante dorme in piedi al chiarore della luna, riparato da una palma sulla cima di una duna. E Morello il pipistrello se ne dorme a testa in giù, nel suo mondo capovolto dove il sole non c'è più. Michelina chiocciolina è davvero fortunata! Dorme nella sua casetta al sicuro rintanata. E le pecore hanno deciso di sognare sulla collina. Dormiranno di sicuro fino a che sarà mattina. Poi c'è un pesciolino rosso che nel mare sta sognando, crede d'essere sulla terra e le bolle sta sbuffando. Anche Giannino è già nel letto e con gli amici il sonno è perfetto. Buonanotte, sogni belli! Buonanotte bimbi, a domani!